Così iniziamo un nuovo capitolo, la modalità, il filo del regno è stato sbroccato, adesso potete accedere alla modalità nella schermata iniziale, poi gli daremo un'occhiata. Allora, dobbiamo liberare questo santuario, quindi possiamo tornare indietro. Oh, qui è lì? che era il risonanza? fai sedia il misuratore della risonanza e straendo il nucleo dei nemici o quando i purificatori istantanei? quando sarei? e dove lo vengo? allora lento torniamo ora ce la mangiare, noi ci entriamo buongiorno non sarà per me, no? se dell'altro no 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 andiamo andiamo e e e e e e e Cosa c'è? Cosa c'è? Un assumento musicale ricavato da una panchia mi è dato durante il periodo Ehi anni in Giappone, ehi anni Se l'ho detto bene, speriamo Fai la figa dei ignoranti Ebbè 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 Ben Gentile hip Hanc Inside Guardate ogni tanto devi trovare manufatti giapponesi tradizionali se dovessi trovarli portai sarei attualmente ricompensato posso menù ragazzi magatama una pezza preziosa ricevuta da un amico e usava sbloccava una modificazione bloccata il mio abilità una delle tracce nuove per il multiverso viaggi trasforma la pulizia delle strade distribui una sequenza di ballo poi lo vedremo avviamento che leggendo aria vabbè vedremo che troviamo questa è una richiesta poi lo faremo tu mi hai già parlato con lui attraverso ecco guarda se vede che già ci manvota che fa ecco questo spunto ancora voglio oh 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 cavolo oh 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 questo grosso assurdo il modo afficcio raccogliamo, raccogliamo, vai, forza ma, e là ci possiamo arrivare ii ai, ai, ai come che stifo? eh vabbè non ti lamenta non ti lamenta non ti lamenta ma sarebbe l'acce non ti lamenta no il cacchio è l'altro non ti lamenta 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 il cacchio è tutto tu mi lamenta non ti lamenta non ti lamenta non ti lamenta ci sembrava subito lì venele d'armi porca pure allora allora ce ne fa degli altri grazie 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 andiamo e fa questa telefonata e tu che dici svuotiamo grazie 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 guarda che c'è devo trovare un portale da oh è tutto quando si è scontato Ah già vai eh vabbè è caricata e si deve pompire così quando arrivo là siamo tutti pronti allora Differenzialmente O O Noi Allora, che male da un'antica, che è io Allora Ai, che fesso Grazie a tutti 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 No Grazie a tutti 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 Grazie a tutti.